Sofì Codegoni mostra i baffi sui social, mi amo che passerà dopo la gravidanza frecciata Anatelli a Paragoni. Sofì Codegoni si mostra senza filtri sui social. L'ex Jeffina, su Instagram si sofferma su un dettaglio del suo viso. Notato proprio mentre parlava con i suoi follower. La Codegoni sottolinea come sembri avere i baffi sotto il naso. Facendo vedere una marcata linea più scura proprio sopra il labbro. Antonella Fiordelisi, io ed Edoardo conviviamo già. La notte che sono uscita dal GFBip mi ha portato a casa dai suoi. Isola, Ilari Blasi si addormente in treno a poche ore dalla diretta, adrenalina prepuntata. Il dettaglio arriva dopo il tema dei peli sulla pancia sollevato da Natelli a Paragoni. Anche lei incinta, anche lei ha le prese con i piccoli disturbi della gravidanza. Se Natalia però ammette di avere una pancia coperta di peli, senza vergogna, la Codegoni tiene a specificare che quella linea scura non sono in realtà baffi, ma si tratterebbe di una macchia solare. Le donne in gravidanza possono sviluppare questo tipo di macchie in esposizione al sole, giuro che non sono baffi. Dice ridendo Sophie, ormai prossima a parto. Mi hanno garantito che andrà via. Non ho messo bene la protezione solare quando sono andata al mare, continua scherzando e alla fine fa anche una battuta, donna baffuta. Sempre piaciuta, che sia semplice autoironia, o una velata frecciatina proprio alla Paragoni. Grazie. Grazie.